Ok, giochiamo contro dogwarts 2256 Facciamo g6 oggi contro d4 Mix damex, grazie mille per il prime Giochiamo alfiere g7 E ok, verrà fuori un est indiana con un ordine abbastanza particolare Ok, più o meno Arrocco, grazie mille anche a mandaraino Per la sub Ok, abbiamo un est indiana a tutti gli effetti L'est indiana con il fianchetto Col fianchetto con l'alfiere in g2 Qua, allora, la variante che abbiamo un po' Approfondito su eduplas È c5 Ma oggi giochiamo cavallo c6 Sì, cavallo c6 Che può rientrare a volte in c5 Per strano che possa sembrare E a6 Questa È la variante panno A6 L'idea è prima o poi reagire con b5 E4 Qua è Un'imprecisione tipica Diciamo che Il bianco Non si sente troppo Attaccato da una mossa come a6 Quindi ne approfitta e prende il centro Ma in realtà permette alfiere g4 Che qua è molto molto forte Perché Il pedone di d4 Rischia di diventare immediatamente vulnerabile Ok, qua Seguirà cavallo d7 Anche l'alfiere inizia a insistere su Su questo punto Tipo cavallo d7 Qui E E riusciremo a piazzare un cavallo in d4 Molto probabilmente Perché ad esempio H3 Alfiere perde E mangiare di alfiere Perché altrimenti cade subito d4 E5 D5 E riusciamo a piazzare un cavallo in d4 Abbastanza indisturbati Diciamo che Dopo e4 La posizione È considerata già Già pari Donna d2 Ok Donna d2 Non la capisco troppo onestamente Però Non Non è importante Forse è meglio così Che non la capiamo Ok Potrebbe essere comunque E5 Una scelta saggia D5 Alfiere per f3 Supresa Penso che possiamo mangiare qua Oddio È un po' complicato Magari possiamo fare qualcosa di Un po' esotico Tipo f5 F5 È un po' strana Però minaccio f per e4 Con il cavallo dietro L'impresa Mettiamo f5 H3 Posso mangiare qua lo stesso Ah Perché Allora Donna d2 È una mossa Che mi fa veramente strano Vedere E L'unica cosa L'unico lato Veramente negativo Che vedo È il cavallo Che Che è difeso meno Diciamo Adesso è un pezzo Non sufficientemente difeso Quindi f5 Andrebbe un po' a Sottolineare Questa Questa mancanza Detto questo Boh Potrebbe magari Su f5 Anche spostare il cavallo Ah cavallo g5 Per esempio Ok Forse dobbiamo trattare Dobbiamo trattare Donna d2 Come una mossa normale Magari mangiamo qua E giochiamo e5 Mattissima live di mattina Ok Quelli Quelli del Del social rosso Non lo sapranno mai Che sono le 10 del mattino Ok Quindi vedete Alla fine Siamo arrivati Con il cavallo in d4 Belli Belli come il sole E E anche c5 Possiamo ulteriormente Rinforzare questa posizione Il cavallo E questo qua Ce ne dimenticheremo In In d4 Questo è un cavallo Che vale da solo La parità Del nero E Ok Dopo c5 Abbiamo sia dei piani Sul lato di re Ma penso che Siano più promettenti Piani sul lato di donna Con b5 Perché il bianco È veramente Una roccia Da queste parti È Difficile Immaginare Che possiamo Fare breccia Ok Qua può mangiare Anpassant Questo è vero Sulla presa Anpassant Possiamo mangiare Di pedone Ci apriamo la b Abbiamo nei piani Con Con a5 A4 E prima o poi Il bianco Sarà più o meno Costretto a giocare B3 E Quindi sì Il bianco può mangiare Non è grave Anzi Forse Sulla presa di pedone Abbiamo questa Questa casa in più Per il nostro cavallo Il cavallo in d4 È Comunque Tenuto abbastanza bene Quindi Credo Credo che siamo messi bene qui Carlo pcc Grazie mille Per la Subscription No ma in realtà Io mi sveglio Abbastanza presto La mattina Cioè mi sveglio Cioè presto Insomma Alle 8 In genere Per me è presto Wikoff Grazie mille Per la sub Un piacere E pagarti le vacanze Maestro Grazie Grazie Wikoff Adesso Se ti mangia il cavallo Con cosa rimangi Credo col pedone Però non Non credo che sia Una scelta buona Per il Per il bianco Catturare Dopo la presa col pedone È Ok Sì Questo Non è assolutamente grave Adesso questo alfiere Diventa molto molto forte E adesso c'è anche una Una mossa tipica Qua il d3 In modo tale di Essere certi di non perdere Il pedone D4 E recuperarlo subito In b2 Però in realtà Qui non Non sono Preoccupato di perderlo Il pedone d4 Tipo d3 Donna per d3 Alfiere per B2 Torre b1 Forse ho dei problemi Concreti Anche su d6 Però Ok Qua la posizione del nero È super dinamica Credo che Stiamo bene Donna b6 Per esempio Possiamo fare Momentaneamente Cercare di capire se Il cavallo Andrà di qua O di qua Se il pedone sta qua Se fare c5 o meno Perché Ok Fare c5 ci assicura Il pedone passato Sostenuto Che è Un buon Un buon asset Se vogliamo metterla In questi termini Però Indebolisce la casa di 5 Il cavallo può arrivare qua È difficile che Possa ambire a Posizioni troppo Troppo Promettenti Donna b6 Mi sembra la più flessibile Mettiamo la donna In una casa che va bene Iniziamo a fare pressione qua B3 B3 Allora Forse Va a cercarsi Dei Dei guai Su questa diagonale Magari Ok Possiamo anche Far scendere Sto pedone A Usarlo In qualche modo Vabbè Dopo Adesso dobbiamo vedere Se Se insisterà Con la pressione In d4 Allora Prima o poi Dovrò Dovrò Prendere una decisione Però Fintanto che Non la devo prendere Rimaniamo flessibili Donna b6 Grande Cavallo arrogante Number one Grazie mille Cavallo f4 Ok Quindi ha Subito Detto che Non gli interessa La pressione su d4 Vuole mettere il cavallo In d3 Probabilmente Ci sta E siccome Sono abbastanza certo Che prima o poi Avrà bisogno Di b3 Iniziamo subito Con a5 Oddio Il fiore h6 Fiore h6 Forse No Fiore h6 Strana Facciamo a5 A5 A4 Dopodiché Il pedone c4 Sarà più vulnerabile Tra l'altro Dopo a5 Forse abbiamo Un Un tema in più Con donna b4 Cioè se lui ad esempio Adesso gioca torre d1 Non vedo perché Dovrebbe fare torre d1 Ma Anche torre b1 Allora donna b4 Qua ha senso Perché se cattura A per E a2 È un problema Abbiamo questa Questa interessante Mossa Da poter usare Poi Lui può anche giocare Torre d1 E fregarsene Per carità Questo Lo dobbiamo dire Vabbè Vabbè Qua Sì Di 6 È debole Vabbè Sì Se vogliamo Di 6 È debole Però Cioè Sì Non sono troppo preoccupato Da di 6 Debole Siamo Siamo abbastanza Attivi Per poter Sopportare Queste cose Allora Non so se Sono un po' Indeciso Su quale pedone Insistere di più Perché vorrei fare Torre 8 Vorrei fare A4 Vorrei fare Cavallo E5 Vorrei fare Cavallo C5 Cioè Se ad esempio Lo costringessi A fare F3 Sarai estremamente Contento Che si indeboliscono Altre case scure E il suo alfiere Diventa ancora Più brutto No Credo che abbiamo Tutto il tempo Di fare tutto Facciamo torre 8 Torre 8 Semplice Portiamo in gioco Una torre Cavallo C5 Magari alla prossima E Anche Costringerlo A mettere la torre N1 Non è male Vabbè La sua E5 Non arriverà mai Ci sono 75 pezzi A difendere E5 Non vedo come potrebbe Spingere in E5 Almeno nel breve periodo Sembra impossibile No? Cavallo D3 Sì ok Però Dobbiamo essere anche un po' Pragmatici Se non c'è il pericolo Cioè voglio Voglio poterlo Mettere in C5 Anche questo cavallo O in F6 Anche Non è così male Ok Dopo cavallo D3 Facciamo A4 Facciamo un'altra Mossa utile Cerchiamo di Rosicchiare Spazio Qua e là Donna B4 Torre F D1 Donna per C4 Torre Bc1 Eh sì Però dipende quando Tipo qui no? Sì ma Oddio Cioè su Donna B4 Può anche fare Donna C2 Capito? È Non è così forzante Ah B4 Subito Ah B4 Subito è È interessante Allora non credo di voler mangiare un passant O sì Forse Forse sì Non ho Non ho più molto tempo Ah Supresa Mangia di pedone E dopo forse ha risolto la maggior parte dei problemi Forse mi conviene Giocare A3 qua Quindi Ho conquistato Cioè ho messo un pedone molto avanzato Che Ok È difficile che nel breve diventi una Una debolezza questo pedone E E li sto un po' isolando Cioè li sto impedendo A3 Che gli avrebbe consentito di Di rimanere più tranquillo E in futuro questo pedone In un eventuale finale di torri Può diventare pericoloso Ora C5 Ok Allora Arrivare in C3 con il cavallo Sembra Quasi impossibile No bisogna muoversi qua Allora la posizione non è Non è semplice Facciamo donna A5 Ok Credo che sia più o meno pari La posizione Però Pochissimo tempo Vabbè Tarzan È stato un piacere Esaudito subito Allora Allora dai Stiamo Stiamo un attimo Concentrati qua Per favore Donna C2 Torre B8 Ok Ok C5 Potrei prendermela con lui In realtà Però Non è facile Ok E5 è arrivata E5 è arrivata Però Non è Anche qua Non è grave Posso mangiare E guadagnare Un pedone Credo Ok Ok Oppure ci mettiamo Anche passivi Momentaneamente No Devo Devo muovere veloce Vediamo se giocherà F4 Torre C8 Non mi piace Come scelta Vabbè 48 secondi Contro 2 48 Però La posizione Non Non mi dispiace Torre B6 Impresa Perché What Ha già iniziato a giocare Per il tempo Con 38 secondi Che scelte Ma non capisco Non capisco Non è un misclick Perché Anche Torre B7 È una cazzata Mangio quello F4 C5 Dai basta Tarzan Sei fastidiosissimo Te lo giuro C5 Secondo me Siamo tranquilli Alex Secondo te La forza Di uno scacchista Si basa Queste domande Si basa In quanto Poco tempo Riesce a creare Problemi All'avversario Oppure il fatto Che crei problemi Anche con poco tempo No Cioè Non è Cioè Che Che cosa vuol dire No Non lo so Cioè L'avversario Deve sbagliare Comunque Cioè Devi far sbagliare L'avversario Mettiamola così Però Cioè L'avversario Sbaglia Anche se non vuoi Vabbè Qua andiamo a donna No Con questi Sono arrivati Sono arrivati A destinazione Ma poi Cioè La forza Di Di uno Scacchista Cioè Per me Possono esistere Scacchisti Estremamente Forti Porco cane No Aspettate un attimo Che Qua Comunque Abbiamo dei Problemini Nonostante Abbiamo sei donne Sulla scacchiera Abbiamo Comunque Dieci Secondi Sulla scacchiera Sulla訴 Sulla scholarships Ma wanna A TA Sulla 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 Ok Just in time Just in time Bella partita mi ha scritto in italiano Grande GG Allora andiamo a vedere un po' Velocemente cosa è successo qua Perché La partita è comunque Abbastanza interessante Credo di ricordarmi bene quel dettaglio In apertura che E4 è proprio imprecisa Si gioca O H3 o B3 O O delle mosse D5 è la principale Certo Allora E4 Vedete mossa da libro ma Ma è una mossa sbagliata Cioè Concettualmente è sbagliata Alfiere G4 Alfiere E3 Cavallo D7 Donna D2 Donna D2 prima del motore Ok Alfiere per F3 Alfiere per F3 E5 D5 Cavallo D4 Per G2 C5 Ok Qua da ancora leggero vantaggio il bianco Con D per C6 Con D per C6 B per C6 E l'errore Ok qua Alfiere per D4 Una mezza Una mezza cazzata Possiamo dirlo Scacco reale Grazie mille per i bittini Perché una mezza cazzata Perché Perché darmi sto alfiere Cioè Un alfiere troppo prezioso E tra l'altro Cioè se proprio vuoi darmelo Puoi aspettare quanto vuoi Questo cavallo Nell'immediato Non sta creando problemi Guardate Per esempio No Presa Presa E lui fa cavallo D2 È molto meglio giocare cavallo E2 Subito Credo E se vuoi Dopo Mi dai l'alfiere Non lo so C5 Puoi tornare in C3 E Entrare qua Quindi sì Alfiere per D4 Una mossa un po' da dilettanti E per D4 Cavallo E2 Donna B6 E qua è già Leggero vantaggio del nero Cavallo F4 A5 Ok Ottima Torre B1 È Alfiere H6 Da adesso Questa era un'idea Cioè mi era venuta Ma mi sembra un po' artificiale Come piano Torre E8 È comunque ottima Cavallo D3 A4 B4 L'avevo proprio detto Qua devo mangiare No E invece dovevo mangiare Dovevo mangiare Un passant Perché devo mangiare un passant Presa Torre A3 Immagino B4 Ah E c'è il cerchere H6 Vabbè Invece A3 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 Non gli piace C5 Restituisce subito il favore Presa presa Donna A5 Donna C2 Torre AB8 Ok Sempre leggero vantaggio del nero Niente di che E torre C8 Sì Torre C8 Non gli piace per niente Ogni volta che faccio un errore Lui Ha risposto con un errore più grosso Torre B6 Non ha senso Cavallo per B6 E E vinco subito No Qua Vabbè La posizione proprio crolla Completamente Iniziano a scendere questi Come Come Non so cosa Troppo facile da qua Dai dai Bene così Grazie a tutti Grazie a tutti